ottimo a marilena mi fa da perfetto e io direi che possiamo iniziare buon pomeriggio a tutti vi di nuovo vi ringrazio di problemi di audio? no no io non sento ok ok vi ringrazio a tutti di partecipare a questo corso che è contemporaneamente un corso di formazione ma anche di ricercazione e alla fine avrete sia l'attestato di aver partecipato dal corso di formazione sia l'attestato di partecipare a un percorso di ricercazione con l'università un percorso di ricercazione è un percorso che mira anche a costruire insieme degli elementi di carattere teorico e di comprensione di approfondimento di comprensione sulle metodiche didattiche della formazione dei nuovi insegnanti vai oggi l'incontro avrà una prima parte in cui cercherò di introdurre gli aspetti caratterizzanti di questo corso e cercherò soprattutto di capire andare in profondità anche aggiungendo ad alcune cose che erano emerse lo scorso anno quindi aggiungendo quello che è stato anche il valore aggiunto del feedback dello scorso anno cercando di cogliere il perché e le motivazioni e il senso profondo del feedback nella didattica attuale dopodiché vi dividerete in gruppi per annualità in modo da affrontare meglio i processi e i percorsi che il tirocinio diretto effettua nelle varie annualità e precisiamo anche in questo senso il percorso che andrete a fare nei prossimi nei prossimi incontri ma il punto iniziale è perché parlare di feedback e credo che noi dobbiamo partire dal perché oggi si lavora per competenze si lavora per competenze perché sappiamo che la formazione degli studenti e dei cittadini di domani non è più quella solo di sapere avere delle conoscenze ma soprattutto di gestire situazioni impreviste di costruire strategie di affrontare problemi quindi lavoriamo per competenze quando lavoriamo per competenze lavoriamo con compiti autentici con compiti complessi se però i compiti sono complessi chiaramente significa che sono autentici sono aperti quindi ciascun studente lo può realizzare a suo modo in questi compiti diventa impossibile fornire a monte tutte le regole e tutte le indicazioni certo ci sono degli strumenti che loro debbono sapere e questi glieli diamo ma poi su come affrontare e come risolvere i problemi le strade di ogni studente possono essere diverse e quindi noi dobbiamo pensare a un modo diverso di supportare la crescita di questi studenti non è che non esiste più il ruolo dell'insegnamento perché ognuno può fare una strada ma è diverso il modo con cui insegnare in relazione alla competenza non a casa che oggi parliamo molto spesso di didattica rovesciata di compiti autentici di didattica per problemi di didattica per progetti cosa ci hanno in comune tutte queste attività e hanno in comune che non è più si inizia fornendo un'istruzione e poi l'altro fa l'esercizio ma noi diamo dei compiti lo studente porta avanti la soluzione del problema il progetto l'attività aperta che abbiamo dato e noi in questo percorso dobbiamo accompagnare lo studente e dare dei feedback come se impedissimo che lui vada fuori strada non possiamo indicare a monte la strada dobbiamo supportarlo in itinere quindi sono possibili ci sono molte strategie modelli quando parliamo di didattica rovesciata di didattica per problemi di didattica per progetti ma tutte queste strategie hanno una cosa in comune la necessità di attivare di attività in cui lo studente possa essere sfidato a creare strategie a decidere e a mettersi in gioco cioè quindi in tutti questi approcci viene favorito che lo studente possa creare strategie a questo punto la domanda che ci dobbiamo porre proprio è l'insegnamento come si esplica questo non significa rinunciare a essere insegnanti ma anzi rende molto più complesso il lavoro degli insegnanti è molto più facile dire ad uno studente si fa in questo modo piuttosto che osservare come lui fa e poi correggerlo aiutarlo e strizzarlo sulla su una strada più efficace quindi il docente accompagna suggerisce indica come muoversi nel specifico percorso questo è il modo di lavorare per la competenza in realtà la cosa che lui fa in questo processo è fornire fornisce dei feedback vai e una delle attività in cui uno deve essere abituato a lavorare sulla competenza è la formazione di un professionista in generale di un insegnante in particolare che significa oggi formare un insegnante certo deve sapere gestire alcune situazioni deve conoscere alcune questioni ma poi deve anche essere capace di affrontare situazioni sempre diverse e costruire progettazione costruire un agire efficace lo verificate lo sperimentate voi ogni giorno non è che ci sono le ricette sì ci sono dei modelli che ti danno delle indicazioni in linea di massiva ma poi è la vostra capacità la vostra professionalità che vi suggerisce come affrontare i problemi che avvengono giorno per giorno mille volte in ogni giorno spesso lo risolvete con un'occhiata spesso con un semplice movimento del corpo altre volte con un intervento più organico altre volte con interventi strutturati anche di più giorni pensando di lavorare su comportamenti più significativi in tutti questi casi la competenza è proprio questa vostra capacità di ridisporre una strategia a questo punto come accompagnare uno studente che vuole domani insegnare ad acquisire questa postura da insegnante a formare la competenza su questo piano non basta neanche guardare chi sa fare perché chi sa fare agisce molto spesso in modo implicito cioè opera correttamente ma dall'esterno non percepiamo le motivazioni per cui agisce in un certo modo spesso un docente competente in poche frazioni di secondo ridefinisce la propria attività e quindi elavora in basso alla propria esperienza in modo velocissimo una nuova strategia chi guarda dall'esterno non percepisce queste riflessioni questo veloce organizzare la propria didattica quindi su questo dobbiamo pensare che sì nella formazione degli insegnanti si possono dare indicazioni di massima ma molto poi si attiva sulla riflessione sull'azione quindi non solo guardare cosa fa l'esperto ma riflettere con lui e operare riflettendo con un altro anche in questo caso è questo ruolo del feedback come esplicitazione delle pratiche io nel mio lavoro sto insegno didattica da anni e credo che una delle attività più efficaci sia proprio discutere con gli studenti su quello che fanno su quello che pensano su quello che vedono anche a scuola è molto più utile che io corregga una loro attività piuttosto che io dica come va fatta in generale noi abbiamo due processi che debbono svilupparsi parallelamente nell'insegnamento noi dobbiamo seguire il filo rosso del sapere sapiente cioè seguire il nostro logica e la nostra logica ci dice come operare in una data situazione ma nella formazione è anche molto utile spesso cercare di capire come sta pensando lo studente come sta elaborando l'attività in base ai propri vissuti alle proprie esperienze ai propri errori come costruisce concettualizzazioni noi dobbiamo riuscire a capire perché fa quella cosa non è tanto importante dire ha sbagliato ha fatto bene ma dietro ogni errore c'è una motivazione nessuno di noi fa le cose a caso non è che si sbaglia perché uno fa per caso un qualcosa ma molto spesso noi facciamo in modo sbagliato dell'attività perché riteniamo che quello sia il modo corretto di farle e quindi dobbiamo sapere qual è la logica con cui si muove l'altro cercare di capire il pensiero con cui operano i nostri studenti per poi supportarli nell'individuazione del problema e disinnescare l'errore per poi andare avanti ecco questa è l'attività che ci proponiamo di effettuare insieme a voi in relazione ai nostri studenti ed è un modo di attivare il feedback vai il corso mi concentro adesso proprio dopo aver cercato di specificare perché il feedback oggi in una diattia per competenze è la postura con cui insegniamo quindi non è solo un modo di dare delle indicazioni allo studente rispetto al lavoro che ha fatto ma è un modo di formare alle competenze dopo aver affermato questo preciso che questo corso specifico sul feedback che stiamo costruendo con voi ha tre finalità principali prima di tutto vogliamo confrontarci con voi sui percorsi del tiroginio diretto quindi sui percorsi di formazione dei futuri insegnanti che attuiamo nel tiroginio vogliamo poi confrontarci sugli specifici percorsi che hanno i singoli studenti negli incontri che faremo parleremo proprio delle attività che fanno gli studenti presenteranno le loro attività e quindi avremo modo di guardarle sia noi che voi da prospettive diverse per fornire dei feedback specifici agli studenti più in generale questo questo corso vorrebbe riflettere su come cosa significa formare nuovi insegnanti com'è la formazione iniziale come migliorare la formazione iniziale proprio comprendere quindi il ruolo che il tutor ha e come il tutor supporta dando dei feedback agli studenti noi predisponiamo delle in generale nella formazione si predispongono dei dispositivi formativi ovvero delle schede dei materiali delle logiche dei modi di osservare è chiaro che questi dispositivi che utilizziamo nella formazione sono diversi da quelli della pratica quotidiana nella formazione c'è più tempo e quindi c'è la possibilità di riflettere qualcuno potrebbe dire ma se sono diversi a cosa serve? Serve perché quando noi usiamo questi dispositivi per la riflessione noi cerchiamo di comprendere di esplicitare le logiche con cui agiamo poi dopo potranno diventare automatiche poi dopo possono diventare esperienza e quindi farle in modo veloce e con altri dispositivi ma nella prima volta noi dobbiamo riflettere dobbiamo esplicitare le logiche con cui operiamo ecco la differenza tra i dispositivi che usano i nostri studenti nella formazione e quelli che usiamo invece tutti quando insegniamo quindi nella nostra pratica sono differenti proprio perché i dispositivi che usiamo nella formazione debbono favorire l'esplicitazione e la riflessione quindi i dispositivi che usiamo sono diversi da quelli usati nella scuola ma non diversi perché sono migliori o peggiori perché è diversa la postura di chi si forma dalla postura di chi lavora uno studente per la propria attività può riflettere può predisporla e progettarla anche con un tempo dilatato chi insegna sa che il tempo per progettare è minimo e quindi dobbiamo utilizzare la nostra esperienza e agire con le routine che conosciamo ma le routine sono frutto di esperienze precedenti e soprattutto di una riflessione sull'esperienza i dispositivi che noi stiamo proponendo agli studenti che vorremmo discutere con voi sono dispositivi che permettono di riflettere sull'esperienza quindi quello che serve ai nostri studenti è quello di riflettere sulla loro e sulle attività che vedono al tiroginio e in questo l'accompagnamento vostro è proprio nel esplicitare quelle logiche normalmente non esplicitate perché voi ormai avete quell'esperienza che vi guida ma dietro l'esperienza c'è chiaramente una logica e questa logica va esplicitata per far capire al novizio quali sono e come operate le scelte quotidiane vai quindi come riflettere sulle pratiche riflettere sulle pratiche significa acquisire una postura professionale comprendere perché vengono fatte le scelte scelte macro e scelte micro la scelta micro può essere perché do un giudizio perché faccio un complimento a uno studente oppure lo rimprovero oppure organizzo una consegna oppure tutte le cose micro e macro che vengono che caratteriscono il nostro operato di insegnanti quindi comprendere perché sono effettuate le scelte ed esplicitare agli studenti gli elementi che hanno favorito o hanno e hanno determinato le nostre scelte comprendere la validità della scelta perché è valida e quale alternativa avevo perché ho scelto quella invece di altre quindi analizzare le possibili alternative valutare quanto le attitudini del singolo possono favorire la scelta cioè ho fatto quella scelta anche perché il mio stile educativo è quello non è che quella scelta è la migliore di tutte in quel contesto e per il mio stile era la migliore se tu studente hai uno stile diverso dal mio potresti fare scelte diverse e anche cerco di capire qual è il tuo stile e come tu potresti muovere chiaramente tutte queste modalità di riflettere sulle pratiche vedono nell'alternanza e nell'osservazione da prospettive differenti un uno strumento un dispositivo utilissimo quindi quando voglio riflettere sulle pratiche è importante avere più prospettive con cui guardare quella pratica vai e qui segniamo in pratica quali sono queste diverse prospettive noi in pratica la formazione dei docenti si articola nel tirogino diretto nelle lezioni tirogino indiretto e nei lavoratori è come se in ognuno di questi spazi lo studente potesse vedere le proprie pratiche da prospettive diverse dalla vostra prospettiva di accogliente dalla prospettiva dei tutor del tirogino indiretto dalla prospettiva nostra dei docenti alla prospettiva di chi dei tutor dei docenti del lavoratorio e l'alternanza tra cosa è è tra saperi teorici che affrontano lezioni e saperi pratici ci deve essere una ricorsività devono essere fortemente connessi e ci deve essere alternanza cioè prima propongo delle cose prima vedo delle cose poi cerco di analizzarle quindi la teoria che nasce dall'esperienza e poi deve essere riconfermata da altre esperienze un passaggio continuo tra possibili analisi e esperienze la necessità di vivere in ambienti formativi diversi nella scuola nell'università nell'università nel laboratorio muoversi tra attività reali viste nella scuola attività simulate nei lavoratori e attività descritte nelle lezioni in pratica di muoversi tra immersione e distanziamento vai quindi il feedback è proprio questa possibilità di visualizzare osservare le pratiche da prospettive differenti il feedback deve essere ricorsivo non è una si esaurisce perché al nostro feedback lo studente deve poter rispondere chiarendo perché ha fatto delle scelte a quel punto anche noi possiamo affinare il nostro supporto e l'importanza che questo corso permette di triangolare la postura dell'osservazione e il punto di vista la prospettiva del tutor accogliente dello studente e del tutor del tirocinio indiretto proprio perché la comprensione delle azioni avviene se le guardiamo da più prospettive è come se un oggetto da piano diventasse tridimensionale ed è questo aumento di prospettive che aiuta noi noi e voi a analizzare le nostre e le loro pratiche e aiuta lo studente a cogliere i vari elementi e le caratteristiche e il valore aggiunto delle loro pratiche a riflettere sulle loro pratiche vai preciso un'ultima questione prima di lasciare la parola ai tutor è chiaro che in questo processo diventa fondamentale anche il dare lo spazio allo studente per poter operare credo che per poter dare dei feedback dobbiamo lasciare dello spazio autonomia agli studenti in modo che possano muoversi possano sperimentare possono agire e scegliere chiaramente all'interno della cultura e dell'impostazione dell'accogliente in classe in modo tale che poi sia possibile dare il feedback il feedback ha senso se c'è prima sta dall'autonomia con cui lo studente ha potuto agire e scegliere quindi l'accompagnamento è il riflettere insieme allo studente sulle azioni che lui ha sviluppato detto questo io vi saluto vi lascio alle tutor e vi auguro un buon lavoro grazie 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 buon lavoro arrivederci grazie professore grazie grazie allora come diceva il professore in questo corso questo è lo specchietto che con cui vi comunichiamo il semestre di coinvolgimento perché poi questo corso verrà replicato anche nel secondo semestre quindi i docenti della primaria che hanno tirocinanti del terzo e del quinto anno i docenti dell'infanzia che seguono i studenti del quarto e del quinto anno l'abbiamo chiesto anche nelle specifiche del modulo di iscrizione ho scritto a coloro che si erano sbagliati i semestri quindi dicendo di venire direttamente a febbraio adesso non so se c'è qualche caso fra di voi poi quando ci metteremo nell'annualità magari lo vediamo meglio possiamo andare avanti Marilena per la prossima slide ok questa è l'organizzazione del corso appunto del primo semestre oggi abbiamo spostato appunto dal 9 al 16 il primo incontro in generale di 2 ore e 30 perché ci spostiamo nelle stanze e dovremo finire entro le 19 poi ci saranno i due incontri laboratoriali due ore più due ore quindi quattro ore in tutto in cui a piccoli gruppi vi incontrerete con le tutor accademiche e con i vostri studenti per gli studenti sarà in orario di lezione quindi non dovranno svolgere attività aggiuntive e per voi indicheranno in base all'annualità vi indicheranno gli orari e i giorni poi le tutor scusi volevo scusi volevo dire una cosa mi dispiace ma io alle 5 e un quarto devo uscire perché ho un glo purtroppo già previsto da prima dello spostamento quindi poi noi tutto il materiale registrato le slide mettiamo sempre sul sito di riferimento che avete indicato nella lettera quindi potrete rivedere e riascoltare tutto lì e lì metteremo anche poi gli incontri per ogni annualità quindi i prossimi incontri potrà vedere lì i laboratori va bene grazie scusi signora Silvia io sono un'insegnante della scuola dell'infanzia Chiurini Marina a me non mi è arrivata questa comunicazione però mi è adatta la collega posso essere inserita oppure no io seguo una ragazza del quarto anno all'università allora voi non vi siete quindi iscritta al modulo cioè online io l'ho iscritto però a me l'email non mi era arrivata me l'ha girata la mia collega di sezione lo so se poi vediamo nell'anualità perché in realtà vi è arrivata prima la lettera in questa lettera c'era il link per l'iscrizione e il link per oggi pomeriggio era tutto lì allora a me non mi è arrivato mi è arrivata il link niente me l'ha girata la ragazza che segui però se sei iscritta non c'è problema io mi sono iscritta venerdì però questa email qui dell'università non mi è arrivata niente questa l'abbiamo mandata alla segreteria evidentemente alcune non è state girate alcune è andata nello spam ma se lei si è iscritta l'abbiamo considerata in elenco quindi poi dopo quando ci ritroviamo non ci saranno problemi perché il cognome è di mia figlia non so è entrata poi metteremo il modulo per le presenze sempre nelle stanze di zoom quindi potete firmare io l'ho scritto nella chat bene io invece chiedo Silvia nel caso di questi incontri di piccolo gruppo in cui l'insegnante tutor appunto è in servizio e non ho possibilità di lasciare la classe ad altri colleghi come faccio? ok noi li mettiamo in tardo pomeriggio tu Paola dove sei? tu fai la primaria quindi sei o in quinto o in terzo giusto? io sono in terzo sì terzo quindi giovedì pomeriggio già ti posso anticipare ah ecco incontri di pomeriggio i lavoratori ci hanno il sabato mattina quella è una categoria a parte poi ne parleremo nell'annualità però sì perfetto allora grazie Silvia scusami Silvia scusami sono Ophelia e ascolta io intanto ho piacere di salutarti e poi dovrei andar via anche io alle cinque e mezzo quindi mi dispiace per questa volta non essere proprio partecipe fino al termine ok poi registriamo insomma la presenza finché ci siete ok bene grazie buonasera una cosa mi ha detto adesso dei materiali che vengono messi nel sito che era indicato nella lettera io sono andata adesso a rivedere la lettera ma non ho trovato indicazioni di questo sito forse o sbaglio lettera allora formazione poi dopo lo condiviamo prima finiamo le slide poi ve lo facciamo rivedere il sito così magari una cosa scusate riferendomi al fatto dei laboratori di domani e dell'orario io facendo la scuola primaria al tempo pieno io domani alle due e mezza sono in servizio quindi non posso nemmeno lasciare la classe a nessuno come si può risolvere questo poi magari lo vediamo nell'annualità così del terzo è Silvia Biondi poi vi dice come recuperare come fare ok benissimo grazie mille prego se ritorni un secondo indietro Marilena perché ecco benissimo il corso è fatto di 12 ore e 30 e ci sarà un ultimo incontro di sintesi in cui voi direte cosa ha funzionato cosa le criticità le proposte eccetera il 18 gennaio sempre di due ore e poi abbiamo queste quattro ore di lavoro individuale che non dovete certificare ma che abbiamo lasciato se volete approfondire con lo studente delle riflessioni riguardare il materiale e quindi in questo pacchetto c'è compreso anche il lavoro a casa ok per qualsiasi informazione poi avete già visto l'indirizzo mail la mail il tutor un MC 2019 chioccio la gmail questo è il sito anzi questa è una pagina del sito il sito per intero è formazionetirocinio.it punto unimc.it e poi vi rimanda la pagina proprio del feedback è un'informazione mi scusi io seguendo nei tre di tirocinanti lei ha mandato tre moduli di iscrizione sempre eh quando sempre dello stesso semestre quindi del terzo e del quinto anno quindi come mi devo organizzare già per poterle seguire tutte e tre oppure ne devo devo fare una scelta lei ha mandato quanti moduli di iscrizione tre ho mandato tre allora lei ha voluto non ha fatto una scelta ha voluto seguirle tutte e tre magari tutte e tre però ecco perché volevo sapere quanti poi dopo incontri in più dovrò fare ecco questo poi magari nell'annualità se in terzo se ne ha due in terzo le fa e poi un altro in quinto magari si può scollegare adesso ditemi pure voi colleghe prima dal ter per quando finisce con le due sue del terzo puoi andare in quinto se combaciano poi gli orari poi gli orari quindi comunque saranno gli stessi giorni in orari diversi no 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 sono allora terzo e quinto gli incontri con gli studenti sono fatti in giornate diverse ah ecco quindi se lei volesse potrebbe partecipare sia al terzo che al quinto perfetto ok allora mi mandate comunque sempre voi le mail per sapere sì certo certo perfetto ma quindi domani c'è un un laboratorio allora adesso un'inchiato tardi e poi adesso se non ci sono altre cose nelle slide un attimo così io creo già ecco io creerò tre stanze adesso mentre magari poi rispondiamo alle domande e tutto allora ok Silvia ho tolto la condivisione perché abbiamo finito con le slide non riesco a fare non mi sono sparita allora intanto interrompo la registrazione